E oggi c'è Enzo Miccio, davvero il vero protagonista dello stile, del glamour, ma anche, possiamo dire così, del nostro guardaroba perfetto. Infatti la prima domanda che voglio farti è proprio questa. Secondo te esiste un guardaroba perfetto? Che consiglio dare anche alle telespettatrici? Esiste il guardaroba perfetto, ovviamente non è universale, non va bene per tutte, ognuno di voi deve crearselo, lo deve fare guardandosi allo specchio. Spogliarsi, spogliarsi dai pregiudizi, spogliarsi da quelle che sono poi le mille informazioni dei media e cercare di farlo proprio, al di là di tutte quelle che sono i trend della stagione, cercare di capire qual è il tuo stile di vita e costruirlo. Pian pianino, un capo alla volta, fate in modo che il vostro guardaroba sia diviso in due parti. Una parte senza tempo, quello che potete utilizzare adesso è tra dieci anni o tra cinque. E poi una parte un po' più di tendenza, quello lì che cambiate con maggiore velocità, un capriccio, una scarpa che vi piace, un colore in modo particolare che magari è di tendenza a questa stagione, ma magari passa di moda dopo un anno. Quindi siate un po' furbe e anche strateghe con la moda. In e out, cosa assolutamente non può mancare e cosa invece dobbiamo proprio cestinare? Beh, non può mancare considerata la stagione, io lo dico, però non sta bene a tutti, la tuta. La jumpsuit è, credo che sia il must in questo periodo di grande tendenza, molto femminile, magari scollata, senza maniche, con un po' di trasparenza, con effetto tattoo sulla schiena, come vi pare. Ma credo che sia un capo veramente bello, importante e arricchisce sicuramente il vostro guardaroba, dandovi personalità. Un capo, uno solo che non dovrebbe esserci, ma lì sono veramente tantissimi. Ti posso anche però dire che la moda è fatta di corsi e ricorsi, no? Una cosa che un po' di tempo fa ci faceva rabbrevidire fino a 4-5 anni fa, gli anni 80, no? Che hanno, come dire, invaso i nostri guardaroba per tanto tempo, ci facevano accapponare la pelle. Adesso sono ritornati, per esempio, le grosse maniche e anche le cose over. Quindi attenzione, anche se una cosa vi sembra non di tendenza quest'anno, se è di buona qualità, se è di una marca buona e non è sciupata dal tempo, usurata dal tempo, non buttatela via, tenetela da parte, che prima o poi, vi è sicuro, il miccio ve lo dice, prima o poi verrà buono. Grazie a tutti.